Da oggi si indicano le votazioni RSU tutti gli enti locali, in fattispecie la provincia. Qui stiamo nella sede della provincia di Sarelli, quindi mai come questa volta le elezioni per la RSU sono importantissime, perché ci sono dei contrasti a livello nazionale che il signor Renzi, Matteo Renzi, diciamo il governo in sé per sé, diciamo le abolizioni delle province. Quindi mai come questa volta diciamo che la RSU, CGL, C6W, anzi dobbiamo essere, chi viene eletto deve essere sicuramente, dobbiamo cercare di essere tutti uniti per contrastare questa malformazione del governo sull'abolizione delle province. Quindi noi a tutt'oggi da degredi fatti, da degredi del Rio, Circolare e Maria, non abbiamo ancora un quadro esatto delle province che vogliono essere smantellate. L'unica cosa sappiamo che vogliono ridurre il 50% dei finanziamenti, quindi vuol dire che se non c'è una regola, se non ci sono altri degredi, si rischia che i dipendenti fatti specie della provincia a giugno, luglio massimo, staranno senza stipendi. Quindi è una cosa che è inubrosa, è una cosa che noi parliamo, il governo si fa con la bocca grande pulita che vuole occupazione, vuole togliere disoccupazione, però fatti specie con le province rischiano 20.000 posti di lavoro senza che ad oggi si è fatto niente. Noi mercoledì siamo stati a Firenze ad un'assemblea nazionale con la partecipazione di tutti i membri nazionali Cigelli e Cigelli, quindi noi siamo fermi sulle nostre battaglie. Quindi la rivendicazione la faremo sì in Sene provincia di Salerno, Regione e sicuramente per fine mese Cigelli e Cigelli, faremo una forte manifestazione a Roma a far sì che questo problema venga risolto al più presto possibile. Questa è componente dell'RSU Cigli, è il quarto mandato che mi sono presentato per cercare di essere eletto. Questo è un mandato un poco particolare, queste elezioni perché si sentono più delle altre volte, perché stiamo attraversando soprattutto noi dipendenti delle province un momento particolare, un momento dove soprattutto in questi ultimi mesi ci stanno notizie che girano di rischi stipendi dal mese di giugno in poi, perché il decreto del Rio parla di un taglio del 50% del personale dove alcuni dovevano transitare presso le regioni, presso il Ministero del Lavoro e presso la Polizia Forestale per quanto riguarda la Polizia Provinciale. Ma purtroppo fino adesso questo non è avvenuto. Quindi con la somma che noi teniamo in bilancio, facendo il taglio del 50%, significa che noi abbiamo gli stipendi soltanto per il 50% delle persone. Se loro non passano rischiamo a giugno-luglio di non prendere lo stipendio. E in questo periodo particolare, dove ognuno in casa ha disoccupati, figli disoccupati, mogli disoccupati, ha sicuramente il mutuo, perché il 60%, il 50-60%, sapendo che uno aveva uno stipendio sicuro, tra virgolette, ha fatto mutuo per la casa o per qualche altra cosa, stiamo veramente in difficoltà. Io certamente dico a tutti i colleghi, dipendenti delle province e non, di votare alla CISL perché la CISL sicuramente sarà vicina a questi lavoratori, come ha fatto fino adesso. È stato vicino ai lavoratori, non ci ha abbandonato, soprattutto il segretario generale, il segretario della CISL Matteo Bono, Pietro Antonacchio, tutta la segretaria, Enzo della Rocca, Miro, il collega Miro che pure ci sta vicino, noi ci sentiamo protetti al punto perché stiamo con questi colleghi che sicuramente ci daranno conforto e ci saranno vicini. Faccio un bocca al lupo a tutti i colleghi dei candidati che in questi tre giorni si apprestano, come a me, a stare in ansia per cercare di fare una bella figura, di essere eletti e saluto a tutti quanti. Grazie. Buongiorno, sono Loretana Gasparri, sono candidata della RSU della CGL, mi sono presentata per la seconda volta alle elezioni, stamattina è il primo giorno che ci sono le votazioni e si proseguono per il giorno 4 e 5 e il 6 ci sarà lo sfoglio. Siamo in una situazione un po' particolare all'amministrazione provinciale, per il fatto che le amministrazioni sono state tolte e siamo anche a rischio dello stipendio. Noi dipendenti siamo tutti preoccupati per questa situazione che stiamo vivendo. Spero che al più presto sia la parte pubblica che l'amministrazione provinciale della Regione ci porta a una conclusione di un riassetto di questi dipendenti e che stiamo vivendo in questo momento una situazione un po' particolare. Ripeto, sia al rischio dello stipendio e sia al rischio di tutti i dipendenti della provincia che non sappiamo in questo momento la nostra posizione come è messa. Spero che queste elezioni porteranno buoni risultati per tutti i colleghi e per tutte le sigle sindacali. Vi ringrazio e è una buona giornata a tutti quanti. Buongiorno, sono Gianna Sanmartano, sono Presidente del seggio elettorale dei nuovi organi sindacali che devono essere rinnovati nella provincia di Salerno. Mai come quest'anno è importante la presenza di tutti i colleghi della provincia di Salerno in queste elezioni perché come ben sapete la nostra posizione di lavoro è un po' a rischio. Con la Regge del Rio non abbiamo ancora le idee noi personalmente chiare e quindi abbiamo necessità dei nostri rappresentanti, degli organi sindacali di poterci rappresentare a livello regionale soprattutto perché dalle ultime notizie che a noi arrivano pare che sia proprio la Regione a dover decidere sul nostro futuro. La Regione in questo momento non si pronunzia proprio perché come sapete siamo vicini alle nuove elezioni regionali e quindi in questo momento è tutto fermo e la preoccupazione di noi tutti è grande. È grande perché dopo tanti anni di lavoro ci troviamo nell'incertezza. Ognuno di noi in qualità anche di capofamiglia, di mamma, di padre ha assunto degli impegni familiari, ha assunto dei mutui, ha assunto comunque delle spese che a fine mese si devono pagare e purtroppo questa situazione di stallo non ci fa vivere bene e per questo continuo a dire mai come quest'anno è importante essere presenti e poter dare il proprio voto alle persone che poi un domani ci dovranno rappresentare. Sono Antonio Mancini, un vecchio sindacalista, ho rappresentato i lavoratori per circa 15 anni. Ho sempre cercato di dare il meglio di me stesso e non ci sono riuscito, è stata una sconfitta per me. Le liste che si sono presentate, tutti bravi persone, ma fare sindacalista non significa essere soltanto bravi ma significa anche essere capaci di tutelare i lavoratori in qualsiasi momento, soprattutto quando la parte è la parte politica, che è un potere contrattuale. Per me il sindacato ormai, come dice Enzio, ormai sta in un angolo, non ha più decisioni, non riesce più a prendere decisioni. Oggi fare sindacalista è un incarico molto difficile e che risposte ai lavoratori vere non è dà.